amiche e amici bianconeri bentrovati è il giorno di pasqua e quindi consentitemi di esordire con davvero un augurio per una serena pasqua a tutti quanti voi e poi un tre gran minuti in diciamo così edizione straordinaria non erano previsti ma è che voglio condividere con voi per alcune informazioni che ho raccolto a seguito del momento delicato che sta attraversando la nostra amata vecchia signora lo avrete letto sicuramente sui social ma anche sul giornale e quindi siamo qui per commentare insieme le ultime news di questi di queste ore prima di cominciare però come sempre mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube tenendo attiva la campanella delle notifiche per poter usufruire su di tutti i contenuti che pubblicherò qui su questo canale e in fondo la puntata come sempre è gradito e mi raccomando non dimenticate di mettere like alla puntata sapete perché ovviamente chi mi segue qui sul canale tutti quanti voi iscritti diciamo i più assidui frequentatori della mia piatta di questa piattaforma di questo canale sanno della mia strenua difesa che ho ottenuto nei confronti di andrea pirlo fino a circa tre settimane fa perché ho sempre ritenuto giusto e opportuno concedere all'allenatore tutte le attenuanti che in una stagione come quella che stiamo vivendo che il calcio sta vivendo necessitassero e quindi mi sembrava logico e doveroso riconoscere ad un neofita come andrea pirlo che pure sapevamo avrebbe commesso i propri errori le attenuanti derivate dal fatto di non aver potuto allenare la squadra in preparazione di non aver potuto fare delle amichevoli per provare diciamo le proprie idee di calcio fino a tutte quante le sfortune determinate dai casi di coronavirus agli infortuni più o meno lunghi che hanno minato diciamo la qualità della rosa a disposizione appunto dell'allenatore oltre ovviamente ad una rosa che comunque palesava qualche inefficienza in qualche zona del campo ma tutto questo ecco mi sembrava fosse fosse abbastanza determinante nel non dover essere troppo frettoloso ad affibbiare delle etichette ma soprattutto a bocciare l'operato di un allenatore ripeto neofita che sapevamo avrebbe commesso le proprie errori che dai propri errori probabilmente io perlomeno mi aspettavo avrebbe tratto gli spunti per potersi migliorare e quindi evitare di ricommetterli in futuro purtroppo sappiamo che qualcosa non è andato o meglio è andato storto e da lì e mi riferisco nella fattispecie nello specifico dalla sfida di san siro pirlo è cambiato dalla sconfitta contro l'inter pirlo è cambiato e probabilmente lui stesso ha perso le sicurezze che aveva in sé nel suo progetto nelle sue idee e non è riuscito più a venire fuori venire a capo di una situazione che via via gli è sfuggita di mano sino ad arrivare ai giorni nostri non ultimo il derby diciamo malamente non vinto voglio dire malamente non vinto perché la juventus dei primi dieci minuti aveva fatto capire che era una partita da bottino pieno che si poteva vincere contro un torino con tutto il rispetto che naviga nei bassi fondi della classifica e che quindi doveva gioco forza essere messo sotto e doveva servire ad una squadra la juventus in difficoltà per cominciare a svoltare soprattutto garantirsi quello che è il minimo sindacale ovvero un posizionamento in champions per la prossima stagione abbiamo visto anche ieri errori clamorosi probabilmente di mancanza di concentrazione di serenità o di qualcuno che ha già staccato la spina perché non crede più in questa squadra non crede più nelle possibilità di ottenere dei risultati che possono comunque essere importanti al netto ripeto di un di una decada nella quale hai vinto 9 scudetti 5 coppe italia se non sbaglio 4 super coppe comunque hai portato a casa qualcosa come 18 19 trofei probabilmente questi abituati così con la pancia piena abituati a vincere hanno forse non hanno la forza mentale per poter stringere i denti a contentarsi chiamiamo così tra virgolette di una qualificazione alla zona e alla champions per la prossima stagione ma questo è un dato imprescindibile fondamentale perché determinerebbe qualora non si conquistasse la champions per la prossima stagione una semi catastrofe da un punto di vista economico per la società e allora è chiaro ed evidente che quello che abbiamo visto ieri dà l'impressione netta di un gruppo sfaldato di un gruppo che non riesce più ad attuare quelle che sono le idee dell'allenatore e di un allenatore non certo esente da colpe perché al netto degli errori clamorosi commessi da kuluseski ancora da da scesni irriconoscibile è chiaro ed evidente che pirlo a questa squadra non sia in grado di trasmettere e di dare nulla di più di quello che stiamo vedendo e il fatto è grave perché la rosa a disposizione di pirlo per quanto non eccelsa se proprio vogliamo essere onesti e intellettualmente certamente è una rosa da primi quattro posti e un dato di fatto clamoroso è andando a analizzare le prestazioni della squadra e le formazioni messe in campo da pirlo è che ad oggi ancora lo stesso allenatore ripeto al netto delle tanto sfortune determinate dagli infortuni o delle essenze per coronavirus non abbia ancora in sé la convinzione di un centrocampo titolare e che ancora oggi a distanza di ormai sette otto mesi non abbia ancora capito che questa squadra con un centrocampo a due con gli elementi di cui è a disposizione non è in grado di di esplicare di esprimere calcio non è non è in grado di supportare il resto della squadra ma soprattutto di contrapporsi a qualsiasi avversario che a centrocampo sistematicamente ti mette sotto e allora lì escono le lacune di un allenatore che non ha esperienza di un allenatore che evidentemente forse troppo orgoglioso o presuntuoso per pensare che si possa giocare solo in quella maniera mette a grosso rischio e a repentaglio il futuro del club e allora avrete sentito letto di questo incontro tenutosi tra Agnelli e Massimiliano Allegri un incontro che io ho cercato di verificare se fosse vero e per il quale ho ottenuto sostanzialmente delle conferme queste conferme non vanno nella direzione che Allegri sarà certamente l'allenatore prossimo della Juventus che Allegri tornerà in sella però c'è sicuramente una fase di attenta riflessione che sta avvenendo in questo momento in seno alla Juventus con una netta possibilità ed io sono stato sempre uno tra quelli che lo aveva escluso perché avevo dato per assodato che quantomeno la zona centros la Juventus l'avrebbe conquistata e invece c'è la grande possibilità che si possa essere un ribaltone non credo e lo escludo tendo ad escluderlo che possa avvenire prima di mercoledì prima della partita con il Napoli certo è che se dovesse fallire la partita con il Napoli Andrea Pirlo difficilmente arriverà in fondo alla stagione perché la Juventus che non sono abituati e non sono soliti a cambiare gli allenatori in corsa o diciamo a rinnegare le proprie le proprie idee le proprie convinzioni sanno perfettamente che la zona Champions è imprescindibile non centrarla significherebbe davvero qualcosa di clamoroso ma soprattutto di catastrofico dal punto di vista economico e allora ci stanno facendo queste riflessioni e quindi vi dico questo incontro che si è tenuto pare in Versiglia tra Agnelli e che in effetti non pare fosse presente allo stadio e Massimiliano Allegri credo che abbia sicuramente un qualcosa di amichevole perché tra i due sappiamo sia rimasta intatta la stima e il rapporto di amicizia ma credo che ci sia un qualcosa di più nel senso che sicuramente nell'incontro Agnelli quantomeno un consiglio a Massimiliano Allegri su quello che è il momento difficile che sta attraversando la Juventus e su cosa eventualmente possa così consigliare l'attuale allenatore Andrea Pirlo credo che ci sia stato questo però non esclude che e qui ve lo lancio ripeto come indiscrezioni che si stanno rincorrendo e che vi confermo mi arrivano da più parti di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri ve lo do come un'indiscrezione non ve lo do come certo non ve lo do come un qualcosa che avverrà però vi ripeto ho cercato di verificare se tra Agnelli e Allegri ci fosse stato realmente l'incontro ma soprattutto ci fosse stato qualcosa di più di un semplice incontro da due parti in seno diciamo molto vicine alla società diciamo così molto vicino alla società per non dire di più mi viene data conferma che discorsi sono in atto che se ne sta parlando e di conseguenza lascio a voi tutte le deduzioni del caso io non posso dirvi Allegri sarà il prossimo allenatore della Juventus ma oggi non sono più in grado di dirvi che Pirlo arriverà sicurissimamente in fondo alla stagione fino a ieri ero diciamo disposto a credere pensavo che sarebbe stato così sapevo che sarebbe stato un progetto pluriannale ma si dava per scontata quantomeno la qualificazione della zona champions che oggi è tremendamente a rischio e che oggi mette chiaramente in discussione la posizione di Andrea Pirlo rimanete sintonizzati ci vediamo per il prossimo tre gran minuti non dimenticate il like al video ragazzi di nuovo buona pasqua e come sempre nonostante tutto forza Juve fino alla fine iscrivetevi al mio canale youtube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao